Gianluigi Pelizzari, insegnante di chimica all'Istituto Fantoni per il corso geometri, come si colloca all'interno del percorso scolastico questa iniziativa? Allora, questa iniziativa rientra in un percorso che si chiama impresa formativa simulata, dove i ragazzi sono protagonisti e cercano di costituire un'azienda con tutti i carismi, con tutti i moduli, con tutte le procedure, come se fosse un'azienda reale. Il tutto viene svolto su una piattaforma in internet, che consente di costituire l'azienda, di farla funzionare, di vendere, acquistare, fare fiere, avere contatti con tutte queste ditte simulate in tutta Italia. È un'esperienza che già al Fantoni si fa da qualche anno, ma quest'anno l'abbiamo introdotta anche nel corso geometri. E per far questo però i ragazzi hanno fondamentalmente bisogno di calarsi nella realtà. Quindi abbiamo due aziende che ci sostengono, che sono la ditta Bettoni, che è intervenuta stamattina, e la ditta Calber, Calcestruzzi Bergamaschi, che ringraziamo, e che sono stati disponibilissimi nel farci visitare i loro impianti e nel fornirci tutte le informazioni utili a costituire questa azienda simulata. Si tiene anche un contatto diretto col mondo del lavoro? Infatti è proprio questo un po' lo spirito anche dell'iniziativa, collegare la scuola con le aziende del territorio, in modo che i ragazzi possano già fare esperienza durante gli anni di scuola. Alcuni di questi ragazzi hanno già chiesto di poter effettuare stage presso queste ditte, che sono molto disponibili anche in questo senso. Cosa ha puntato l'intervento di oggi? Oggi qua a scuola ho spiegato ai ragazzi come funziona un'azienda e principalmente ho illustrato loro come si struttura un organigramma, come vengono divise le mansioni e come vengono calcolati i costi di produzione, in questo caso degli aggregati e calcestruzzi, perché noi come azienda produciamo aggregati calcestruzzi. Quanto è importante per voi come azienda questo rapporto con le scuole? Per noi è importantissimo, perché prima di tutto ci teniamo molto alla formazione della forza lavoro futura e poi in un certo senso anche ci permette di conoscere dei nostri potenziali futuri lavoratori e specialisti, quindi per noi è molto importante questa collaborazione. Grazie. Grazie. Grazie.